ok so siamo arrivati finalmente agli uffici come vedete qui al sesto piano abbiamo gli uffici della frozen quindi andiamo a vedere cosa ci aspetta oh eccoci qui frozen si si è madonna il godzilla è enorme wow so many prints ah nice to meet you silver i think craig has been in contact with you before yeah yeah i'm in contact with craig every time by facebook okay i said this is the factory yeah it's very cool yeah i can show you around this is actually printed by arco yeah he will stole me we use several printers and print like a few weeks and put it all together yeah i have the small version bigger like this one this is like a more like a showcasing the muscle yeah it's very big one yeah questa è stata stampata completamente con la nuova frozen arco che è leggermente più grande di quello a casa io che è grosso così i'm making also video from vroll from italy for the our channel yeah no problem so uh you know we used to start with uh uh recently yeah so here are the models printed by both fdm and recent uh so even though arco is the unit but this is actually printed by arco as well come closer amore anche questa è stata stampata con l'arco oh wow the detail is very good yeah and also i can see no stringing so much better quality from the previous model that i got on my beta unit tester yeah this one this one oh look it's this is pretty ah it's not it's not opening okay it's not opening yeah but the surface is very smooth and clean wow impressed also the big benchies so uh we actually have a lot more refined printers in the lab i think we can show you later so uh this uh all the printed by arco and we just put this one is with uh racing yeah okay yeah i have more actual figure than them ah i print more than the frozen i should print some miniature that i print to give to them i didn't think it was so big yeah this is our latest one yeah i know i know this comes with the mega idea i know do you have one maybe if you give me one i will have i have the mega 8k yes make that one the 8k but i really need one bigger for print by racing stuff uh cosplay helmets and also this one is so big yeah it's fantastic i love it so this is actually uh our dunquan factory and we have roughly 20 30 engineers over here so uh specifically uh we have the hardware engineer and uh remote engineer so for hardware engineers we have mechanical engineering electric engineer okay qui è la punto della stanza sono divisi ingegneri hardware software and the bunch are still back in the lab and we can visit the place later okay nella parte di posteriore hanno laboratorio dove sono tutte quante le stampanti che vengono testate yeah so you can actually come over to me thank you really love the model that's smart here in this one ah here is the printing at the showroom ah i bring this one smaller you can see a lot of like a fail prints so we're testing uh different stuff here and the quantities after improving i think we uh 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 i think yeah for example i like this too you can see this is the uh older version yeah this is the newer version this is the old version also here oh yeah it's the first version that the way i printed also i bring here to compare oh let's go we're going to talk about our monday today 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 is monday okay hello we're still setting up so we'll come back oh questo è il laboratorio vero e proprio look this way so look here or we have roughly over in arco ah ok ah questo è il laboratorio dove stanno sviluppando le arco che momento ce ne sono una decina funzionanti e più tardi verso le due del pomeriggio torniamo qui e l'accenderanno per far vedere i progressi della stampa all right so uh here for the second they are going to show us the manufacturer no ok thank you adesso andiamo a vedere la fabbrica vera e proprio dove assemblano del tutto è così bello qui ragazzi ragazzi guardate questo è un tuff un colpo al cuore è veramente crudele da parte minuto loro so this is the mega ips and uh mega mighty ravel um yeah yeah i know i saw i saw and uh those are the testing area so when we have the product of business produced we are going to put up there to test oh okay and make sure there's your function yeah we can actually come so this one are all unit ready to be sold or they are going to be so allora queste sono tutte le unità che sono pronte per la vendita prima di essere messi in vendita vengono testate una per uno qui specialmente le auto ks vengono livellato automaticamente da loro che come vedete sono tutte stampanti in azione che stanno facendo i test e questi sono i nuovi modelli revo in anteprima i nuovi sony mitra e invece la catena di produzione di assemblaggio ma non ragazzi tutte queste 8k messe qua così che piange il cuore ne voglio 200 di queste quindi al piano di sotto hanno un altro edificio un altro piano grosso come questo dibito principalmente allo stoccaggio this is all the washing cure this is the new one this is the cure station ah the cure station yes yeah with a fan for heating this is very good oh my god this is their washing station yeah this is their small washing station yes my god yeah but i want to grow so il vetto della auto ks the size for mecca yeah i know 300 138 300 i really want to print one helmet with this one so here's our printed lab and in here you can see a dozens of uh a dozen of our code is actually up and running ok adesso stiamo andone laboratorio ci sono delle diverse unità arco che stanno stampando diversi materiali e diversi progetti che single color chi multicolor e anche qualche test segreto ok questa come vedete la frozen arco in questo momento sta facendo il livellamento del piatto e il livellamento del piatto è completamente automatico e hands free come hanno detto loro quindi l'utente non deve calibrare niente non deve aggiustare una z offset è tutto in automatico e come potete vedere come here close there a differenza dall'unità che avevo io potete vedere quella sticella grigia in fondo quella è il prototipo che hanno messo per il nozzle scrapping for per pulire il nozzle quando viene cambiato il filamento per avere una linea più pulita in fase di stampa fine i non so i non vedete la piramide di apporto che hanno messo l'auto per per l'auto non so qua la padronica ma vi hanno messo l'auto in quanto riguardo una parte l'auto per l'auto di oltre l'auto per l'auto d'auto anche per l'auto l'auto per l'auto anche per l'auto per l'auto con l'auto ok pesa un grosso grazie 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 Ciao Craig! Allora, and we'll come back here. Here they are testing something, as you can see, the multicolor, warning the avoid injury. Don't touch that, this is the printer. This one is the AMS when it's working, now you can see live recording, all the way the filament pass through the PTF tube until it reaches the hot end, and that happened something. This is why we put the perch tower and the spaghetti, so that's how we reduce the size of the perch tower. Yeah, compared to the beginning it was already much smaller. In the beginning it's actually pretty good. Yeah. The quality of this printer is much better from what I got at the beginning, guys. They really make a very nice improvement. Perchè ho detto in inglese? La qualità della stampa è migliorata moltissimo da quanto ho fatto io. Molto molto migliore rispetto agli inizi. Grazie. Molto molto diciamo. Questo sì, ma questa è un po' più di loro. Questo è un po' più di energetico, Questo è un po' più di loro. Quindi quello è причindibile. S'era un po' più. È un po' più di loro. È uno che si c'è un po' più di loro. Sì. La mano gigante e come potete vedere la consistenza di layer è ottima, fatta veramente veramente bene ed è veramente grande come stampa, sembra quasi matte che lei, come si nascondono, veramente bella. And this is the torture test, this one is printed like this one, and you can see here, 0.5, this one is tuned a little bit better, it's normal, but it's already, all the gears working good. Ricordate che queste sono sempre test unit di una unità in test, quindi non un prodotto finale, ma direi che come qualità stanno facendo veramente ottimi, ottimi progressi. Very nice. Okay, so guys, really thank you for giving me this big opportunity to open the door for me here. It was an amazing experience, I really enjoyed here to see also how is proceed the developing of the Arco, and guys, trust me, it's going very good, you will not regret of this printer. So thank you again Frozen for welcoming me, and I hope I can come here in the future also. Thank you so much. Thank you. Bye bye, ragazzi. Oh, grazie ai ragazzi qui della Frozen che ci hanno aperto le porte per questo evento, per mostrarci i progressi della nuova Frozen Arco. Posso garantire che lo sviluppo sta andando molto molto bene, la qualità è migliorata tantissimo rispetto all'inizio, quindi veramente non ne sarete delusi, se avete ottime aspettative per questa stampante non sarete delusi. Ragazzi, per oggi è tutto, è stato un onore per me essere invitato qui alla Frozen per mostrare tutti i progressi che stanno facendo sulla nuova Frozen Arco e per vedere dall'interno come funziona lo sviluppo di una stampante. Il lavoro che c'è dietro è enorme, sono due anni che stanno sviluppando e lavorando su questa stampante e stanno veramente facendo un ottimo lavoro. Quindi grazie di tutto alla Frozen, grazie anche della stampante che ora io mi porto via con me e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.